Uffici e uffici a Montebello Vicentino progetta e arreda il tuo ufficio e luogo di lavoro con mobili per ufficio sedute pareti divisori e servizio contract uffici e uffici punto it office system per tutto ciò che devi stampare salvare o archiviare vendita nuovo usato selezionato assistenza multimarca contattaci per un preventivo gratuito rossi illuminazione da oltre 50 anni ci occupiamo di illuminazione su misura lampade lampadari e soluzioni per ogni esigenza contattaci rossi illuminazione desilvestri risarcimenti hai subito un danno il risarcimento è un tuo diritto spese legali e mediche nessuna preoccupazione le anticiperemo noi per te benvenuti al nuovo appuntamento targato tv a una vita in gioco è il programma nato per raccontarvi delle storie storie di vita storie di sport storie di imprese ogni settimana avremo un ospite in studio che appunto andrà a svegliarsi le imprese che ha compiuta grazie a tutti Oggi al mio fianco ho il piacere di avere Andrea Muraro, ciao Andrea, benvenuto. Ciao, grazie a tutti. Tu pratichi una disciplina che è molto conosciuta, il ciclismo, una disciplina che è in continuo aumento, però in realtà la applichi in una soglia un po' più elevata, gare estreme, ultracycling. Partiamo da questo, intanto cosa sono queste ultracycling? Le ultracycling sono specialità di ciclismo su strada, che si svolgono su chilometraggi molto importanti, dai 300 km in su, con varie categorie. C'è il self-supported, come la pratico io, senza supporto, quindi io e la mia bicicletta, oppure con supporto con l'auto in team 2 o 4. Allora, solitamente le gare estreme, perché poi ci sono in varie discipline le gare estreme, le fanno chi deve ritrovare un qualcosa, chi ha già una certa esperienza alle spalle. È difficile trovare un ragazzo che a 25 anni si mette in lotta con se stesso. Da dove nasce l'idea di partecipare a questo tipo di gare? Allora, praticamente è una cosa un po' strana, nel senso dopo 17 anni di agonismo ho smesso e ho fatto un anno e mezzo di stop dove non ho voluto vedere la bicicletta, nemmeno in casa, poi però dopo tanti anni così è come una passione che comunque ce l'hai dentro e niente, mi sono messo alla prova su queste gare qui estreme e dove ho trovato comunque un amore folle per cui adesso non posso più smettere. Quindi hai iniziato, immagino, da bambino con la bicicletta, quali sono i risultati che hai ottenuto quando eri agonista? Beh, diciamo che ho iniziato veramente da piccolino, da giovanissimo, poi nelle categorie fino ai dilettanti per quattro anni. Diciamo che nella mia carriera non ho vinto tantissimo, però comunque era una pedina molto importante per la squadra. Comunque sono arrivati successi internazionali, nazionali, un cambiato provinciale, quindi diciamo che nella saccoccia c'è tanto. Quello che mi porto dentro della bicicletta comunque è proprio una scuola di vita, uno sport che insegna tanto non solo in bici ma anche al di fuori, nella vita quotidiana. Ecco, il ciclismo è uno sport singolo, tu sei in lotta ogni giorno contro te stesso, quindi devi anche cercare di trovare degli obiettivi e degli stimoli per raggiungere questi obiettivi. Ecco, come li trovi questi stimoli? Diciamo che ogni giorno per me è qualcosa di nuovo, ogni giorno quando esco in bici non esco dicendo sono arrivato. Per me ogni giorno è una partenza, quindi ogni giorno apro un libro nuovo dove devo scrivere qualcosa di me stesso. Ormai uscire in bici per me è diventato qualcosa da cercare, proprio da trovare. Ecco, quando corri in categoria a livello direttantistico dove sei arrivato tu, hai comunque una squadra, hai delle persone che ti seguono. In questo caso immagino non ci siano queste persone, quindi non hai la possibilità di confrontarti con un compagno di squadra e capire quali sono le difficoltà da superare. Quindi penso che questo sia veramente uno scoglio importante, no? Sì, diciamo che è tutt'altro dal deletantismo, dove comunque avevi tecnici, avevi comunque gente che ti poteva dare una mano in caso di problema meccanico, ad esempio, su una corsa. Qui tu diventi un tutt'uno, non solo con la bici ma anche con tutti gli altri aspetti che guarda il ciclismo. Ecco, ultraccycling, tu parlavi di gare da 300 km in su, ci sono gare che superano anche i 1000 km. Raccontaci un po' di questo tipo di gare. Allora, io quest'anno ho avuto l'occasione e la fortuna di fare due gare da oltre 1000 km, una da 1500 e una da 1200. Sono gare che quando parti non sai come potranno andare. Ti metti degli obiettivi, insomma, hai dei step da portare avanti. Io generalmente li suddivido a pezzi da 200 km. Dopo dipende, ogni gara ha il suo sé, quindi non puoi dire 200, 200, 200. In base a come stai, a come ti senti, svolgi la gara. Certo, arrivare a 1200 km non è facile, però ci si può fare, dai. Ecco, quindi tu metti a prova il tuo fisico, immagino, ma soprattutto devi gestire anche i tempi di riposo, perché in queste gare lunghissime sono fondamentali anche i tempi di riposo, no? Sì, diciamo che in queste gare qui il riposo è fondamentale, soprattutto in gara non si dorme, e quindi questo è un aspetto da non sottovalutare. Però le settimane prima della gara l'importante è comunque dormire, cioè far sì che il fisico comunque recuperi e sia bello sveglio durante queste prove qui, che comunque è di prove di endurance estreme. Ecco, quindi hai già un po' anticipato la preparazione a questo tipo di gare, ad esempio sul riposo del fisico. E invece sul mettere sotto stress il fisico, perché immagino che anche l'attività motoria sia importante. Come ti prepari a questo tipo di gare? Allora, diciamo che il primo anno in cui ho iniziato queste gare qui, io ho iniziato comunque a allenarmi da solo, durante la notte sui dolomiti, e con qualsiasi tempo, non importava se c'era pioggia, se c'era neve, se c'era sole, ma l'importante era comunque uscire e vedere fin dove arrivava il mio fisico. Le prime volte comunque dopo i 300 chilometri il fisico cominciava a accusare un po' di stanchezza normale. Dopodiché, piano piano, siamo andati comunque avanti con i chilometri, abbiamo messo in pratica quello che ho imparato da giovane, quello che stavo imparando adesso, e ho messo insieme queste due piccole cose ed è nata così l'abitudine a stare tante ore in sella, perché comunque ricordiamo che se stai in sella 20-30 ore, 30 ore e mezza, 48 ore, quindi è veramente molto importante stare bene, soprattutto. Allora, noi stiamo vedendo delle immagini, mentre tu parli, che sono veramente bellissime, sono immagini che raccontano veramente un vissuto. Hai la possibilità di vedere anche posti bellissimi, questo è un grande vantaggio, non so se hai il tempo di goderteli questi posti, perché immagino che la gala sia molto impegnativa, no Andrea? Diciamo che, fortunatamente, riesco sempre comunque a cogliere tutto quanto dei paesaggi. Io penso sempre, no, quando si viaggia in macchina non si vede assolutamente nulla, perché si spreccia a 120 km di orari. Io ho avuto la possibilità comunque di vedere comunque tutte quante le Alpe francesi, e devo dire che comunque è una bella, una bella, cioè il panorama è comunque che, fatti in bici è un'altra cosa. Ho visto i Dolomiti, ho visto tutta la Francia quasi, quindi devo dire che merita veramente davvero a viaggiare in bicicletta. Se oggi dovessi scegliere una delle imprese che ti stanno più a cuore, quale sceglieresti? Diciamo che i sogni nel cassetto sono tanti, però l'impresa che mi piacerebbe tanto fare è una corsa nel deserto, ok, perché proprio lì penso ancora una volta metterei ancora di più sotto sforzo il fisico. Vediamo, se riesco a realizzare questo sogno qui sarebbe una bella cosa. Quindi non sarebbe solo una gara estrema, ma sarebbero anche condizioni estreme in quel caso, no Andrea? Beh, sicuramente sì, è un mix di estremismo. Come si prepara una gara come questa? Lì forse devi cambiare anche il metodo di allenamento, no? Ti dico, non ci sto provando, però cambia veramente tantissime cose. Cambia alimentazione, cambierà comunque l'idratazione, comunque è importante. Capire di gestire ancora di più il fisico, conoscersi ancora di più per portare a termine una cosa del genere. Bene, con questo ti auguro un grosso in bocca al lupo, Andrea, grazie per essere stato con noi. Insomma, cosa dirti di più? Tanti buoni risultati per te. Grazie mille a voi, è stato un piacere. Bene, con questo è tutto. Questa prima puntata termina qui. Vi do appuntamento a settimana prossima con Una vita in gioco. Uffici e Uffici a Montebello Vicentino Progetta e arreda il tuo ufficio e luogo di lavoro Con mobili per ufficio, sedute, pareti divisorie e servizio contract Uffici e Uffici punto it Office System Per tutto ciò che devi stampare, salvare o archiviare Vendita nuovo, usato o selezionato, assistenza multimarca Contattaci per un preventivo gratuito Rosse Illuminazione Da oltre 50 anni ci occupiamo di illuminazione su misura Lampade, lampadari e soluzioni per ogni esigenza Contattaci Rosse Illuminazione De Silvestri Risarcimento Hai subito un danno? Il risarcimento è un tuo diritto Spese legali e mediche? Nessuna preoccupazione Le anticiperemo noi per te Di Silvestri Risarcimento